Il Presidente è stato straordinario nel sintetizzare come è stato un lavoro di oltre un anno. All'interno del PNRR sono state approvate importanti norme che ampliano i poteri dei prefetti nella parte delle interdittive antimafia e riescono a conciliare come è la necessaria velocità degli appalti ma contemporaneamente con la sicurezza e con la prevenzione. È un lavoro di tutto il governo, il Ministro dell'Interno in testa e il Capo della Polizia al suo fianco e la DIA partecipe dei gruppi interforzi antimafia all'interno di ogni prefettura per supportare i prefetti in questa attività.